Sono le medesime teste e le stesse mani a pensare e scrivere i progetti culturali sulle vie dei Fenici e del Polo Museale di Oristano. Nelle fasi iniziali ed in via principale le intuizioni si devono a personaggi come lo storico Raimondo Zucca e l'architetto Maura Falchi, ma anche del giornalista che riferisce di quel tempo testimoni dell'esigenza di attribuire un senso non meramente burocratico intanto all'antiquarium arborense. Tempi biblici poi per dare gambe al progetto iniziale. Per l'antiquarium arborense si trattava di ampliarne contenuti e significati anche grazie alla disponibilità del coevo Palazzo Arcais, per un certo tempo elevato anche a sedi istituzionali e di rappresentanza politica, di una provincia resa grigia da una incolore gestione commissariale e di sopravvivenza. Stessa sorte per la vicenda che la collega Valeria Pinna ha ricordato nei giorni scorsi sulle pagine dell'Unione Sarda. È quella riguardante il percorso dei Fenici che attraverso sentieri, stradelle e attraversamenti fluviali dovrebbe ipoteticamente collegare la marina di Torre Grande con l'area archeologica di Tarros. Un attraversamento che parte da una delle anse del fiume Tirso, passa per la marina di Oristano, la Pineta e Susiccu, l'antico villaggio dei pescatori, per poi inoltrarsi nell'area della peschiera Pontes, successiva all'esigenza di scavalcare o aggirare il canale scolmatore, l'annessa peschiera e attraversare le paludi temporane e la laguna di Mistras per giungere a San Giovanni di Sines, Mare Morto e l'area archeologica di Tarros. Siamo con il commissario stradinario della provincia di Oristano, Massimo Torrente, per parlare della chiusura di due società, la SEA e la Hours Country. Sì, non sono due decisioni prese adesso, sono due decisioni che risalgono già dal periodo in cui amministrava The Senen, fanno parte del primo piano di razionalizzazione delle società partecipate adottata nel 2015 da quell'amministrazione che sostanzialmente prevedeva la dismissione di quasi tutte le società partecipate, lasciando in piedi di fatto soltanto la SPO, che era la società di servizi di cui ancora oggi la provincia si serve. In questa ottica nel 2015 per la SEA è iniziato il procedimento di liquidazione perché di fatto si erano verificate le condizioni per o recapitalizzarla, ma la provincia non era in grado in quel momento di ricapitalizzare alcunché in quanto si trovava in condizioni, e si trova ancora in condizioni economiche e finanziarie che non gli consentivano di fare operazioni di questo genere e tra l'altro doveva sparire, oppure fare la liquidazione perché il capitale sociale era diventato al di sotto di un terzo. E quindi su decisione del Consiglio di amministrazione della stessa SEA si iniziò il processo di liquidazione con la nomina del liquidatore. Questo processo è andato avanti un paio d'anni, quindi dal 2015 lo stesso mio percorso sostanzialmente da settembre 2015 si sta concludendo, nel senso che a giorni ci sarà l'assemblea definitiva con i due soci pubblici che sono la provincia e la Camera di Comercio che peraltro era già uscita dalla SEA, con la quale si definiranno gli ultimi dettagli e la liquidazione. Per quanto riguarda invece l'Horse Country? L'Horse Country rietrava sempre in quel piano, era anni che ormai non operava più, e i comuni che operavano in questo consorzio e la stessa provincia erano anni che non pagavano le quote perché ormai non si stava operando più e quindi si è deciso in un primo momento di recedere dal consorzio, poi siccome per recedere bisognava essere a posto con il pagamento delle quote, alla fine si è presa la decisione di liquidare, si è nominato un liquidatore, adesso siamo in fase, l'equilatore sta cercando di ricoprire le quote a parte dei comuni che non hanno ancora versato gli arretratti, mentre la provincia ha ottemperato nel 2017. Ebbene, allora arriviamo alla società che è ancora in piedi, ovvero la SPO. Questa è una sorta di scommessa, la SPO è una società che svolge un servizio essenziale per la provincia perché si occupa dei servizi che riguardano principalmente una delle funzioni che sono rimaste alla provincia che sono l'edilizia scolastica, quindi si occupa in particolar modo della manutenzione delle scuole di istruzione secondaria, sia manutenzione ordinaria che straordinaria. Per cui già a suo tempo, quando si fece il piano di relazionalizzazione, la SPO fu dichiarata come la società partecipata che svolgendo questa importante funzione doveva comunque sopravvivere. E sta sopravvivendo con una serie di difficoltà che in questi anni abbiamo cercato in qualche modo di superare perché legate naturalmente alle risorse insufficienti e al fatto che questi dipendenti della SPO provengono comunque da una situazione erano degli operai socialmente utili, quindi ormai hanno delle difficoltà anche di tipo funzionale a svolgere certi servizi per cui non possono fare tutto quello che potrebbero fare prestatutto, ma comunque si sta cercando in tutti i modi di farla sopravvivere perché altrimenti saremmo comunque costretti ad andare all'esterno con dei prezzi che sono sicuramente più grossi, più alti. A livello nazionale si discute sul metodo migliore per affrontare l'obbligo vaccinale. Dai dieci vaccini imposti dal decreto Lorenzin si passerebbe a un modello più flessibile basato sul rapporto tra medico e cittadino col quale la maggioranza in Parlamento intenderebbe modulare gli interventi in relazione alle realtà epidemiologiche locali. Abbiamo quindi analizzato la situazione nella provincia grazie ai dati fornitici dall'ATS Asla di Oristano per capire quale sia il livello di copertura nella zona. I dati presi in considerazione sono quelli relativi ai 905 bambini nati nel 2015 in quanto il ciclo vaccinale si completa in due anni, tra prima dose e successivi richiami. I vaccini obbligatori allora erano nove, polio, difterite, tetano, pertosse, epatite B, hemofilus, influenzae B e morbillo, parotite e rosolia. L'immunizzazione contro il virus della varicella è divenuta obbligatoria solo nel 2017. Dal confronto dei dati appare che sei dei nove vaccini obbligatori sono al 98,6% di copertura, ben oltre la soglia del 95% che determina l'immunità di gregge, ovvero evita la circolazione del virus, mentre tre, morbillo, parotite e rosolia, sono al 94,8%, che statisticamente si considera come il 95%. La nostra provincia ha quindi raggiunto l'obiettivo della copertura del 95% per i vaccini obbligatori. Occorre segnalare che la percentuale di 1,4% dei bambini non vaccinati può essere dovuta a diverse cause. Bambini esentati per motivi di salute, bambini che hanno avviato ma non ancora completato il ciclo vaccinale entro i due anni, oppure nati a Oristano ma le cui famiglie si sono trasferite. Vi sono anche i casi in cui le famiglie scelgono di non vaccinare i propri figli, anche se sono pochissime. Per quanto riguarda la registrazione informatizzata dell'anagrafe vaccinale, comunicano dalla TS ASL che si sta procedendo alla digitalizzazione di tutto l'archivio cartaceo, che comprende l'intera provincia di Oristano, per i nati dal 2001 al 2017. Sono stati già digitalizzati gli anni dal 2013 al 2017 e si prevede di completare il lavoro entro alcuni mesi. Ed ieri l'abbandono dell'aula consigliare da parte dei componenti della minoranza del Consiglio Comunale di Oristano, che accusavano il sindaco Luzzo e la sua giunta di aver portato in discussione il documento unico di programmazione senza aver prima consultato le commissioni competenti. Il capogruppo PD e Fisio Sanna contestava in particolare la modalità di diffusione delle notizie prediletta dal primo cittadino, dichiarando che la condivisione non si fa solo sui social o al telefono, si fa anche e soprattutto nelle istituzioni. Giunge oggi la replica dell'assessore al bilancio del Comune di Oristano, Massimiliano Sanna. I documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri nei tempi previsti e la commissione consigliare li ha esaminati a fondo nel corso di due sedute, durante le quali i consiglieri di minoranza non hanno garantito la presenza. Le procedure e i tempi sono stati rispettati. La minoranza, come è stato rilevato ieri sera in aula, ha preferito sottrarsi al confronto. Evidentemente è a corto di argomenti e preferisce lo sterile scontro politico piuttosto che un confronto sui contenuti. Peraltro, conclude l'assessore Sanna, il DUP presentato ieri in aula è una bozza che in questa fase può essere oggetto di approvazione o di integrazione e modifica. Con questo spirito lo abbiamo portato all'attenzione della Commissione e del Consiglio, aperti al contributo di ogni consigliere, in vista di un'approvazione definitiva che la legge fissa al 15 novembre. Confidiamo che il loro apporto non mancherà lunedì prossimo, quando il DUP sarà discusso e portato alla votazione. La notizia di un nuovo furto nel quartiere di Torangius rende ancora più urgente l'intervento di posizionamento del nuovo impianto di illuminazione pubblica iniziato stamane in via Pirandello, ad opera del Comune di Oristano. È la prima risposta concreta alle legittime aspettative dei residenti in tema di sicurezza, spiega il Sindaco Andrea Luzzo. Il Comune, anche attraverso la società City Greenlight, che gestisce la rete di illuminazione pubblica cittadina, ha disposto una serie di opere. In più, prosegue il primo cittadino, abbiamo sollecitato un finanziamento straordinario di 200 mila euro al ministro dell'interno Matteo Salvini, per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico nel quartiere, dove si è registrato un eccezionale incremento di furti in appartamento. Oristano è notoriamente una cittadina tranquilla. Anche gli ultimi dati collocano la nostra comunità, fra quelle con il tasso di criminalità più basso in Italia. Tuttavia, spiega Luzzo, l'incremento dei furti e alcuni episodi connessi a tentativi di rapina hanno destato la preoccupazione della pubblica opinione e l'attenzione delle forze dell'ordine, specie in considerazione del fatto che tali eventi si verificano con maggiore frequenza nel quartiere di Torangius, dove risiedono circa 7 mila persone. Nel giro di pochi giorni l'impianto di via Pirandello entrerà in esercizio e per i malintenzionati sarà più difficile agire indisturbati, osserva l'assessore ai lavori pubblici Riccardo Meli, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo per verificare l'andamento dei lavori. A bilancio sono iscritti altri 150 mila euro per il servizio illuminazione, continua l'assessore Meli. A breve, questa somma verrà impegnata per procedere con alcuni interventi di riparazione guasti anche in altre zone della città, su impianti che presentano problemi di dispersione e soprattutto per il ripristino di 120 sostegni che sono stati rimossi negli ultimi anni perché risultavano gravemente ammalorati ed in pericolo di caduta, oppure rimossi a seguito di incidenti stradali. L'amministrazione comunale di Oristano ha giudicato per 478 mila euro l'appalto per il completamento della riqualificazione dell'area del complesso residenziale ex IACP costruito al posto delle case minime. La riconversione della nuova piazza procederà parallelamente a quella di via Ristana e via Arborea, i cui lavori sono stati appena appaltati. Si concretizzerà un miglioramento complessivo dell'intera area di quella parte di città, dichiara in un comunicato il sindaco Andrea Luzzu, grazie alla realizzazione di un'area totalmente verde alberata dalla parte di via Palmas. Un percorso pedonale ciclabile, panchine e un'area ristoro. Il progetto prevede anche un sistema di illuminazione pubblica LED, un impianto fognario di smaltimento delle acque piovane e un impianto di irrigazione per le aree verdi. Nel piazzale troverà la sua nuova sede il mercatino di via Ristana, che durante l'esecuzione dei lavori sarà trasferito provvisoriamente nel piazzale di via Ugone III, con un totale di 54 stalli con una loro distribuzione più razionale in base alla tipologia di prodotti in vendita distinti fra alimentari e non. Non uomini o bambini autistici ma esseri normali. L'autismo non una malattia ma una caratteristica. Il tema principale del libro dello scrittore Paolo Montaldo, denominato H.I.J., presentato ieri 26 luglio nella piazza più antica di Milis, Piazza Martiri. Il libro affronta il tema della sindrome di Asperger, che deve il suo nome a un pediatra psichiatra austriaco e può essere definita una condizione di autismo a più alto funzionamento. Il disturbo investe soprattutto l'ambito della comunicazione e relazione sociale. Il libro racconta la storia di Henry, un bambino che interagisce e si relaziona con facilità con il suo amico cane, piuttosto che con il mondo esterno e soprattutto i genitori, che vivono il dramma di qualcosa di sconosciuto. È incomprensibile per loro, di cui non hanno gli strumenti per contrapporsi se non fatalmente. Sebbene sia scritta in terza persona, la storia appoggia fondamentalmente sulla figura del padre, un piccolo uomo comune alle prese con un problema ed un fardello eccessivo per le sue fragili risorse personali e materiali. Una storia vera di una disabilità, a meno insegnato a chiamarla diversità, ha dichiarato Paolo Montaldo. Perché questo? Tutti noi abbiamo delle caratteristiche. Se uno impara a vedere la persona prima della caratteristica, ecco che la disabilità scompare. Ancora oggi, riferendoci alle tematiche associate alle disabilità e a situazioni di vulnerabilità, si continua ad utilizzare troppo spesso termini ed espressioni non appropriate. Come afferma un cantante nostrano, noi possiamo facilmente cambiare casa, macchina, lavoro o altro, ma cambiare idea difficilissimo, soprattutto se l'idea ci è stata inculcata ad una data società come la nostra. Le etichette non definiscono le capacità di una persona, ma possono permettere uno sguardo più profondo nella personalità di ciascuno e metterci nelle condizioni di essere aiutati ad esprimerci al massimo delle nostre potenzialità. Un grave incidente stradale si è verificato ieri 26 luglio lungo la statale 388 prima del passaggio a livello di Simagis. Secondo quanto si è appreso, una donna ha perso il controllo della sua macchina, una Toyota Yaris, che è uscita di strada ribaltandosi. Nell'auto, insieme alla donna, viaggiava anche suo figlio. L'autovettura ha terminato la sua corsa all'interno di un frutteto. Giunti sul posto, i carabinieri di Oristano e due ambulanze del 118. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale San Martino di Oristano. Tornano nuovamente in azione i ladri a Torangius. Ieri, 26 luglio, è stata presa di mira una villetta schiera all'angolo tra via Verga e via Pirandello, un colpo messo a segno tra le ore 19 e le 22 e 30, quando in casa non c'era nessuno. Al rientro, i proprietari hanno trovato la casa sottosopra. Sul posto è intervenuta la polizia di stato di Oristano per i rilievi e le prime indagini. Tragedia sfiorata ad Arborea. Una turista è stata salvata dai bagnini del North Country Resort all'Alabirdy. Secondo quanto si è preso, la donna si è immersa in acqua, ma si è poi trovata in difficoltà, probabilmente per un malessere. Immediato l'intervento dei bagnini, che hanno riportato in riva la turista, soccorsa poi dal personale del 118. La donna è stata trasportata all'ospedale San Martino di Oristano. La prefettura di Oristano ha pubblicato il report contenente i risultati dell'indagine statistica sugli incidenti stradali, verificatesi nel territorio della provincia nell'anno 2017. Emerge una diminuzione dell'incidentalità e, contrariamente a quanto indicato dai dati nazionali, la distrazione alla guida non è più la causa principale dei sinistri. Il lunedì risulta essere il giorno con la più alta frequenza di incidenti ed i protagonisti principali sono gli uomini, in età compresa fra i 36 e i 55 anni. I mesi caratterizzati dal più alto numero di sinistri sono giugno e agosto. La prefettura di Oristano intende procedere all'affidamento del servizio di interpretariato per le esigenze dell'ufficio immigrazione della questura di Oristano. Il bando può essere consultato sul sito istituzionale della prefettura all'indirizzo internet www.prefettura.it.oristano. La Capitaneria di Porto di Oristano ha ordinato l'interdizione temporanea dello specchio acque in località Torre dei Corsari, nel comune di Arbus, a causa della presenza dei pericolosi resti del catamarano Twin Star. Gli uffici della sezione territoriale di Oristano dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti resteranno chiusi per ferie estive dal 30 luglio al 25 agosto, riprenderanno i lavori il 27 agosto. Sabato 28 luglio l'Associazione Liberamente, in collaborazione con il gruppo teatrale Il Ferro Dorato, presenta alle ore 21.30 al Teatro San Martino lo spettacolo dal titolo Alla salute di Shakespeare, adattamento e regia a cura di Carla Urru. L'ingresso è offerta libera. Grazie per aver guardato il video, grazie per aver guardato il video! Grazie a tutti! Grazie a tutti.